Dopo lo stop degli ultimi giorni, causa indisponibilità del Ziero, la campagna vaccinale ad Arezzo cerca di riprendere pieno ritmo. Sono infatti arrivate nuove dosi di AstraZeneca e può ripartire così la somministrazione al Centro Affari, al quale da sabato si affiancherà anche il nuovo hub allestito all'interno del Teatro Tenda, grazie ad un accordo tra azienda sanitaria e amministrazione comunale che ha concesso gli spazi. Nel centro di Via La Mendola verranno così installati 10 box vaccinali seguiti da personale Asla. Qui da sabato 17 è dichiarato il direttore generale Antonio Durso, verranno vaccinati i caregiver conviventi di persone estremamente fragili sotto i 16 anni. Ad Arezzo saranno 114, altri 156 saranno vaccinati nei centri del territorio già da venerdì. Questa struttura andrà ad aggiungersi a quella del Centro Affari che resta operativa per le vaccinazioni delle categorie anagrafiche. Il Teatro Tenda nelle nostre intenzioni potrà ospitare vaccinazioni delle categorie più fragili che adesso vengono chiamate vaccinate nei locali del Pionta, non privi però di alcune criticità riguardanti viabilità ed accesso. I box del Teatro Tenda saranno anche messe a disposizione per terminare le loro vaccinazioni o se necessario attivare altre categorie. Con questo intervento conclude siamo veramente pronti per una campagna vaccinale di massa, tutto ciò naturalmente dipende però dalle disponibilità del Siero. Il Teatro Tenda, sottolinea invece il vice sindaco Lucia Tanti, diventa oggi un luogo di speranza in attesa del domani in cui tornerà ad essere simbolo di ripartenza ospitando di nuovo pubblico e spettatori affinché questo si materializzi il presupposto è che la somministrazione dei vaccini cambi davvero marcia. L'Asda Toscana Sud-Est infine ha presentato un nuovo servizio che avrà come scopo quello di aiutare le categorie fragili ad orientarsi nel percorso verso il vaccino. 843 25 25 è infatti il numero che dalle 8 di venerdì 16 aprile sarà contattabile da coloro che avranno difficoltà o alla ricerca di informazioni utili. Il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì.